quando scende il sole tutti vanno a dormire perché nel buio non sanno camminare ma giacobbe non dorme e incontra un uomo nella notte un uomo buio e misterioso come il cielo e i due incominciano a lottare giacobbe è ferito ora l'uomo gli vuole parlare e dice che da ora giacobbe si chiamerà israele e il suo destino sarà grande perché così ha deciso il signore grazie a tutti